Mattelli bianconeri e sorelle bianconere, il metro Nicolino che misura la chiusura, no, non è finito il mercato della Juve, iscrivetevi al canale per sapere tutto, mettete like al video se vi piace, commentatelo soprattutto perché siete sempre più arguti e scampanellate per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Sono uscite le liste Champions della Juve, ufficialmente la Juve ha consegnato, consegna oggi alla UEFA la lista Champions, c'è dentro Perin, c'è Bremer, c'è Gatti, Capitan Gatti, c'è Locatelli, c'è Danilo, c'è con Seisau, c'è con Maynes, c'è Vlauvi, c'è Nico González, c'è Milica, Lulú, tutti, McKennie, Azzi, c'è Artur, c'è Artur, Mirko, c'è Artur. 28, 28 giocatori a disposizione tra cui anche Artur. Poi tu Raffa, Jolly, Wehap, Insoglio, Douglas Lewis, Gambiaso, Di Gregorio, Cabal, poi c'è Artur. E non c'è Kostic però. Non c'è Kostic, non c'è Artur. Esatto, Kostic che continua a rifiutare tutte le destinazioni possibili e immaginabili e Artur che invece viene inserito in lista UEFA. Ma cosa vuole fare Kostic? Vuole fare gli assist a Vlauvi che poi tanto non li segna? Non lo so cosa vuole fare. Si percepisce comunque tanto dispiacere, tanto fastidio da parte di Kostic per come sta andando a finire, indubbiamente. Non so come andrà a finire perché comunque sono rimasti pochi i mercati aperti, Turchia, Grecia e poi cosa c'è rimasta? Indonesia, forse, Arabia, Portogallo, Serbia, Spizzera. Sì, ma non sono campionati che interessano tanto Kostic. L'unica spiegazione che mi do è provare a metterlo in mostra dicendo guardate, lo mettiamo perfino in lista UEFA, quindi se lo volete dovete pagarlo. Artur è uno dei giocatori che pesa di più sul bilancio della Juventus, oltre 23 milioni. No, ma tu lo sai che c'erano due casi per cui Giuntoli avrebbe meritato assolutamente la statua, al di là dell'ottimo mercato che ha fatto. Uno era Sancho, però mi ha evitato di farmi 140 chilometri a piedi e quindi può anche andare bene così. L'altro era la cessione. Proprio, si è andato vicinissimo. Eh, lo so che sono andato vicinissimo. La mezzanotte prima ho tremato e ti dico che ho anche messaggiato per capire di che morte dovevo morire. Ma sono andato a letto più tranquillo. E l'altro era la cessione di Artur, che è un'impresa titanica. È un'impresa titanica. Guarda, non per le qualità del giocatore in sé, sulle quali possiamo discutere, ma indubbiamente possiamo oggi dire che lo scambio Piani-Chartur è stata la peggiore operazione della storia recente della Juventus. La peggiore in assoluto perché comunque non hai avuto dei benefici sportivi, non hai avuto dei benefici a livello di bilancio, perché se l'obiettivo era quello di fare una mega plusvalenza, un mega scambio di plusvalenza, poi lo hai pagato nei bilanci successivi e oggi ancora hai un calciatore che pesa tantissimo e non lo riesce a cedere. Quello che la gente non vuole capire, così torniamo anche alla famosa inchiesta plusvalenza, visto che è passato un anno e non vedo ancora quelle delle altre squadre uscire dai cassetti della scrivania del signor Kiné, è che comunque la plusvalenza a bilancio è come le rate, è un rimandare la questione e quindi prima o poi è arrivato il punto in cui per saldarle tutte hai fatto l'aumento di capitale con i soldi tuoi. Quindi non è che hai dei benefici dal punto di vista dell'operazione, è solo rimandarla, come quando acquisti a rate. Perché il bilancio della Juventus, visto che adesso si è chiuso il mercato, è sostenibile e ha raggiunto gli obiettivi anche della sostenibilità? Perché pagando le operazioni in più esercizi le mette in diversi bilanci. È questo che non vogliono capire. Il titolo non è 200 milioni spesi, perché allora dovrei fare Napoli 160 milioni spesi, Roma c'è. Perché a Roma ha potuto fare quelle operazioni lì? Perché ha fatto delle rate, ha piazzato dei giocatori. La Juve uguale, l'impatto sul bilancio, sul bilancio quest'estate di questo 24-25, ha molte più uscite che entrate da accodarsi e accollarsi. Ma questo non lo spiega mai nessuno. E così è una questione plus valenza. Quindi come dici tu, cos'è successo? Che adesso abbiamo messo posto faticosamente tutto e bisogna arrivare al 26-27 per chiudere tutto il pareggio che probabilmente accadrà nel 26-27. Ovviamente qualcuno questa cosa la dovrebbe spiegare anche a chi ne è, che durante il processo sportivo disse che la Juventus ha fatto le plus valenze per non mettere la mano in tasca e tirare fuori soldi suoi. E questa è un'assurdità totale. È un'assurdità totale. Esattamente. Ma come si dice in questi casi? Mio figlio che va all'elementari l'ha capito. Mio figlio che va all'elementari l'ha capito. Io l'ho spiegato e l'ha capito. Forse bisogna mettere giudici che hanno cinque anni e che probabilmente capirebbero meglio. Senti, quindi, vabbè, mercato aperto, Costi-Chartur, abbiamo detto. A questo punto, però attenzione, sai che stamattina mi è venuto in mente? Sono anni e anni e anni e quando arriva la sosta diciamo tutti sta sosta, non ci voleva, poi stanno due settimane e lavorano sempre. Benedetta sosta. Abbiamo solo dieci giocatori che vanno in nazionale. Per la prima volta, forse dopo nove, dieci anni, la Juventus fa una sosta per le nazionali con quattordici giocatori alla Continas. Per Motta è una manna perché si trova tutti i grandi titolari che devono ancora prendere, soprattutto i nuovi arrivati, a disposizione. Quindi Benedetta sosta. Assolutamente sì. Io ho sempre sottolineato negli anni scorsi quando tanti dicevano arriva la sosta, adesso la Juve potrà recuperare. Potrà recuperare chi sia ogni volta che c'era una sosta per le nazionali rimanevano in tre alla Continas e si allenavano o con la Primavera o con la Next Gen. Non recuperavi nessuno. Ora invece, in cui hai una diecina di giorni, diciamo, con quattordici giocatori, tra cui con Miners, con Seisau, eccetera, eccetera, puoi impostare un certo tipo di lavoro. Vlaovic, che non va in nazionale. Magari puoi metterlo a fare un po' di muro, vediamo se è giusta la mira. Lo fa ancora. Lo Catelli stesso, che non va in nazionale. Allora, diciamo che c'è la possibilità di fare un certo tipo di lavoro, posto che noi dobbiamo dire le cose come stanno. Fin qui è stato fatto un ottimo lavoro da parte di Motta. La Juventus ha sette punti dopo tre partite. Però c'è una narrazione che a me non piace, tu lo sai, Claudio, perché si tende sempre a estremizzare e a polarizzare, perché c'è chi è a favore di Motta, chi è contro Motta, e la si racconta. Allora, la Juventus ha fatto due buone partite contro due avversarie, diciamo, di livello medio-basso, ok? Poi ha incontrato una squadra più forte e ci sta a pareggiare, anche se l'inizio di campionato della Roma è stato negativo. Ci sta a pareggiare, ci sta a pareggiare contro una squadra che viene prevalentemente per difendersi in casa tua, però, attenzione, a dire ma abbiamo pareggiato perché la Roma ha messo il pullman. E allora, scusatemi, se da qui a fine campionato tutte le squadre metteranno il pullman, le pareggiamo tutte? Allora, io per quella che è la mia esperienza di allenatore, dico sempre ai miei giocatori, se noi giochiamo in casa e scendiamo in campo per vincere, l'avversario viene per prendersi un punto e se lo prende, vuol dire che la mia strategia, quella che io vi ho chiesto per questa partita, è stata sbagliata. Invece la strategia dell'allenatore avversario, che voleva un punto e l'ha ottenuto, è stata strategia vincente. Quindi, qual è il processo di crescita che deve fare questa Juventus? Prepararsi ad affrontare avversari che non saranno tutti come Como e Verona. Affronterà la Juventus tante altre squadre che si chiuderanno e dovrà esserci un piano B, perché altrimenti torniamo alle scuse di Sarri, io ricordo l'anno di Sarri che diceva spesso ah beh, oggi non abbiamo vinto perché la squadra avversaria si è messa tutta dietro la palla. Ho capito? E quindi andiamo tutti a casa, siccome le squadre ti affrontano così, non si scende in campo, cioè che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un'alternativa. Ma perché ti agiti? Tanto adesso è tutto diventato meraviglioso. Oggi, stamattina, finalmente che uno 0-0 con due palloni per Vlaovic e un tiro in porta è una cosa positiva e di grande crescita. Quindi, visto che finalmente abbiamo sdoganato il fatto che si può fare 0-0 con due palloni al centroavanti e che sia una cosa improvvisamente positiva, abbiamo soltanto che è da migliorare. Va tutte a parte. Questo è per dire, ragazzi, a casa, tanto ve l'avevamo già anticipato cosa sarebbe stato. Qui, oramai, invece che discutere di calcio, parlare di quello che accade sul campo, si va a mode. Quindi, se l'allenatore di turno è il tuo favorito, è tutto positivo. Al contrario, è tutto negativo. In una stessa partita. È un po' come il VAR. se tu vedi un pestone di maggiori è giallo, se vedi quello di Pellegrini è uguale, non è giallo. Dipende da come ti dice. Vedi, Claudio, la questione è molto semplice perché noi diamo troppa importanza a quello che è un gioco e ci convinciamo spesso di alcune idee che poi non hanno riscontro nella realtà. Quando mi si dice in questi giorni la Juventus ha pareggiato ma non ha avuto un atteggiamento propositivo, dico assolutamente sì. E a me è piaciuto tantissimo l'atteggiamento della Juventus. L'aggressione alta, l'aria aggressione alta, il non concedere nulla in difesa. Ma è ovvio che questi sono dei passi avanti notevoli e importanti per la crescita di una squadra. Però se poi alla fine giocare in questo modo ti ha portato ugualmente a pareggiare 0-0 vuol dire che probabilmente dovevi fare anche altre cose perché altrimenti se fosse bastato quello avresti vinto. Avresti vinto. Quindi questo, l'anno scorso quando... Un po' di onestà intellettuale. Se Bremer finisce la partita e ti dice chi vince lo spudetto non deve prendere gol. Non è che l'anno scorso era una frase difensivista e quest'anno invece diventa una crescita. La sostanza è sempre quella. Hai letto per caso accuse a Gatti sulla frase quando non riesci a vincere non devi perdere? No, no. Eppure l'anno scorso quando la disse qualcun altro fu sommi ah che mentalità perdente. No, semplicemente siccome il calcio è molto più facile di come lo stiamo facendo diventare come dice oggi Prandelli a Tutto Sport ci siamo innamorati talmente tanto del giochismo che ci siamo dimenticati che alla fine la differenza la fanno i gesti tecnici. E quindi se Vlaovic quei due palloni che ha giocabili buoni li gioca tecnicamente bene probabilmente a fatica ma 1-0 la Juventus porta tre punti a casa. E quindi come lo dicevamo l'anno scorso perché era giusto dire l'anno scorso che Vlaovic avesse pochi palloni giocabili e spesso quei pochi palloni li giocava male dobbiamo dirlo allo stesso modo oggi. Che l'atteggiamento della squadra sia differente è vero ma non cambia il giudizio sulla questione Vlaovic e sulle palle gol che non abbiamo creato con la Roma. Tutto qua. Scusatemi se scusami se mi permetto di semplificare ma tu sei un allenatore tu ti puoi permettere quello che vuoi senti in chiusura per star sereni perché sai che non c'è sosta della Nazionale senza che escano dei casi rilevanti se no che sosta della Nazionale che annoia però è Danilo che non gioca mai è Danilo che non gioca mai Lewis che fa solo 55 minuti di tre partite e vabbè il prossimo sarà lo stipendio di Vlaovic Ora diciamo che Douglas Lewis rimane a Torino quindi ha la possibilità per come dicono di perdere qualche chiletto in più che si sarebbe portato dietro dalle vacanze e recuperare Ma questo non l'avevo notato ma non era McKinney quello? Pare che il motivo delle esclusioni di Douglas Lewis sia uno stato di forma generale non non ottimale detto detto che io Claudio un calciatore così che ha una gestione del possesso e un consolidamento del possesso palla a favore di tutta la squadra eccezionale io lo metterei sempre dall'inizio poi magari lo sostituisco appena stanco invece Motta come faceva anche un altro allenatore preferisce quelli che sanno gestire bene palla quando non sono in condizione preferisce tenerli in panchine e metterli a dare in corso quindi vedete gli allenatori anche quando hanno idee diverse spesso fanno scelte analoghe per la strategia della gara però ribadisco Douglas Lewis crescerà e non può non essere uno dei punti di forza di questa squadra Danilo non dico che è un caso però non possiamo relegare la cosa semplicemente al e vabbè è tornato tardi dalla Coppa America perché anche Bremer è tornato tardi dalla Coppa America e Bremer dal giorno dopo dal giorno dopo in cui è arrivato a Torino è stato titolare in tutte le amichevoli e non è mai stato risparmiato quindi semplicemente c'è una scelta tecnica nei confronti di Danilo evidentemente a Tiago Motta Danilo non fa entusiasmare non genera non non gli suscita emozioni non gli suscita quell'emozione che magari i tifosi si aspettano e quindi lo lascia regolarmente in panchina a favore di Savona che sta comunque facendo bene e e anche diciamo tra virgolette tolto questa fascia di capitano che tutto ci saremmo aspettati ma non che sarebbe finita a Gatti magari ci saremmo aspettato Vlaovic anche perché tra l'altro beh questo questo è un altro segnale è un altro segnale a Gatti non a Vlaovic e non a Vlaovic esatto quindi spesso in passato Motta la fascia di capitano la faceva la spostava da un elemento all'altro durante l'arco della stagione per ora sta dando stabilità in questa scelta e quindi noi la prendiamo per quello che è cioè un allenatore che ha il polso della situazione che vede i giocatori H24 quindi chi meglio di lui Benedetta Sosta abbiamo tanto di cui parlare e quindi siccome molto abbiamo detto ci teniamo qualcosa anche per la prossima settimana grazie Mirko alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti